Un flash di commento sulla partita, io direi che il Pescara sta dimostrando oramai già da un po' di stare molto meglio rispetto a inizioni. Ma credo che il mister abbia trovato la quadra per questa squadra, devo dire, l'ho già detto, mi sembra proprio a te, che devo fare i complimenti anche a Luca Matteassi che a gennaio ha portato i correttivi giusti. Noi purtroppo nel mercato dell'estate non siamo stati in grado di poter fare quello che volevamo perché avevamo tanti giocatori che venivano dalla passata stagione e quindi non era facile, però a gennaio poi ci siamo riusciti e oggi credo che la squadra sia una squadra, una vera squadra. E quindi i risultati arrivano sia per la bravura del mister e anche perché adesso ha i giocatori giusti per farli giocare in campo. Soprattutto a centrocampo adesso arriveranno anche le alternative, è un puntissimo che è un po' stanco. Ha giocato bene Nzita in quel ruolo, però ora rientreranno anche Memusche e D'Ambo. Sì, sì, ma devo dire che, ripeto, Nzita è entrato sia a Modena e anche oggi molto bene in un ruolo che sta facendo adesso perché non è il suo, però tutti quelli che hanno giocato, io credo che oggi la squadra abbia veramente espresso un buon gioco dall'inizio alla fine e credo che se c'è da fare un complimento a tutti quanti, voglio sottolineare una prestazione perché ho visto un ragazzo rinato che è Luca Clemenza, che ha fatto una partita, una grandissima partita sia in fase di possesso che di non possesso, è una cosa che non vedevo da un po' di tempo, io l'ho fatti personalmente ma ci tenevo a farli anche pubblicamente perché ha fatto una grandissima partita, come tutti gli altri, ma Clemenza oggi mi è piaciuto tantissimo. Allora io faccio due considerazioni prima di andare in studio da Massimo e Fabio. La prima, dopo la strigliata che lei ha fatto nel post Reggio Emilia, la squadra è completamente cambiata come struttura, come assetto. Questa, le chiedo, è una squadra, Presidente, che può dare filo da torcere proprio a tutti, anche quelle che sono lì su, in classifica, nei play-off? Ma non si tratta di strigliare, si tratta che a Reggio Emilia abbiamo giocato proprio male, non abbiamo espresso il gioco che normalmente facciamo, non siamo stati squadra, abbiamo fatto, devo dire, un paio di errori che ci sono costati la partita perché poi loro non è che abbiano fatto chissà che cosa. Credo che i 20-22 punti di vantaggio che hanno le due non rispecchiano la realtà con la nostra compagine, oggi, però hanno meritato di stare lì e quindi hanno fatti complimenti a loro. L'ultima da parte mia riguarda la questione plus valenze perché una parte della tifoseria è preoccupata per quelle che potrebbero essere le richieste della Procura, visto che al Pescara è stato contestato anche il comma 2, che è un comma pesante. Qual è il pensiero del Presidente? Il pensiero del Presidente è quello che ho sempre detto, noi siamo molto tranquilli sull'argomento, aspettiamo chiaramente il deferimento della Procura che ci sarà sicuramente e poi ci difenderemo perché se c'è qualcuno che vuole contestare la vendita dei giocatori dove il Pescara prende soldi, allora è chiaro che a questo punto dovrò dargli anche le chiavi della società e fargli gestire la società perché se uno mi contesta che non posso vendere un ragazzo a un milione dove ho preso soldi e allora vuol dire che devono farlo loro il calcio perché obiettivamente noi non abbiamo fatto scambi di figurine, lo dimostreremo, abbiamo incassato soldi da tutte le operazioni che abbiamo fatto, se poi qualcuno mi deve contestare che io possa essere bravo o più bravo a vendere un giocatore invece di 500 o un milione e allora a questo punto vuol dire che devo cambiare mestiere. A proposito, società ci sono novità? No, però sto lavorando e devo dire che stiamo andando anche abbastanza velocemente avanti e spero veramente che da qui a un po' di tempo ci saranno novità perché è giusto che sia così. Ma con il gruppo di Gian Giorgio o con altri? Stiamo lavorando su tutte le strade che avevo perché non abbandono nessuna strada. Non è quella più vicina? Sono tutte vicine, quindi il primo che si siede al tavolo e chiude per me sarà il nuovo proprietario del Pescara. Studio. Fabio Ferraresi per il Presidente. Intanto lo saluto, ciao Pres, alla luce di quello che vuole fare il Pescara e quindi cercare di arrivare più in alto possibile in classifica. La partita di martedì prossimo col Cesena pensi che possa essere una partita spartiacque proprio per questo motivo? Ma credo che se vuoi avere l'ambizione di arrivare davanti al Cesena, la partita col Cesena sicuramente la devi vincere. Diversamente dobbiamo pensare a fare il meglio possibile e arrivare magari ad essere la miglior quarta dei tre gironi. Però noi dobbiamo adesso guardare partita dopo partita ma con questa squadra, con questo approccio che hanno in campo, con questo modo di giocare, io sono molto ottimista nel senso che credo che questi ragazzi possano fare bene da qui alla fine e quindi magari darci qualche soddisfazione in più.